La stagione 2021 per Ottavio Essart e per l'Aerosport 8.8 giunge alla conclusione, ma è stato un 2021 ricco di successi e di splendide affermazioni a livello nazionale. Ottavio, ci vuoi raccontare di queste splendide vittorie che hai portato a casa quest'anno? Guarda, indubbiamente sì, quest'anno siamo più che felici della condizione che siamo riusciti a portare e degli ottimi risultati. Abbiamo confermato i risultati dell'altro anno, che non è solo stato un caso essere campione italiano nella NBFI, ma quest'anno ne abbiamo aggiunti. Nel senso che nella INBB siamo riusciti a fare primo negli over 50 e primo nella categoria altezza peso, meno 3, meno 6, open. Cioè, open vuol dire aperto a tutti, anche agli esteri. Dopodiché siamo andati a garaggiare in un'altra federazione, la VNBF, che noi l'altro anno non eravamo riusciti a entrare. Quest'anno siamo entrati, abbiamo vinto le qualificazioni e abbiamo vinto anche l'italiano, bensì over 50, in sé campione italiano. E in conclusione siamo andati a difendere il titolo nella NBFI, dove quest'anno abbiamo trovato un ottimo atleta che, ahimè, è riuscito a battermi e abbiamo fatto un ottimo secondo posto, che non è da buttare via, bensì vice campione italiano. Parliamo di bodybuilding natural. Quanto è cambiato, è mutato negli anni, visto che ormai tu hai da un po' di stagioni che sei uno dei protagonisti di questa disciplina. Raccontaci appunto in breve come è cresciuto e come si sta evolvendo. Guarda, io ti posso dire che sia a livello competizioni, che proprio nel mondo delle palestre il bodybuilding natural l'ha fatto, passi da giganti negli ultimi cinque anni. E il connubio, l'evoluzione tra il cibo e gli allenamenti hanno portato a dei risultati che una volta si ottenevano solo con il bodybuilding doping. Perciò ti dirò che io sono felicissimo di questa scelta di gareggiare solo più in federazioni natural, come vi ho detto, e giusto per mettere i puntini sulle i, sono federazioni natural come la WNBFI che ai campionati italiani hanno fatto a tutti il test della verità, giusto per dimostrare quanto di natural c'è in queste federazioni. Un'altra cosa molto importante è la collaborazione tra l'Aerosport 8.8 di Rivara e il coach Alessandro Scaglione. Ci vuoi raccontare anche di questa esperienza che state vivendo assieme? Indubbiamente sì, questa qui è una collaborazione che continua perché era già presente l'altro anno e continua quest'anno e continuerà anche il prossimo anno perché comunque ci stiamo trovando bene entrambi, è anzitutto un amico perché comunque è un ragazzo che è cresciuto qua con noi, lui sulla parte alimentare è a mio giudizio il top, niente a che dire, e dopodiché sulla parte degli allenamenti e tutto, riusciamo a scambiarci informazioni e tutto il resto. E il risultato è all'occhio di tutti. Quest'anno abbiamo portato a casa tre titoli italiani, perciò non ci possiamo lamentare. Ti chiedo un'ultima cosa, ovvero visto che parlavi appunto di questa collaborazione che proseguirà anche nel 2022, quali sono eventualmente gli obiettivi, se già tessi posti, per la prossima stagione? Indubbiamente qualche obiettivo ce lo siamo posto, nel senso che Covid permettendo, come tutti sappiamo, ci piacerebbe continuare a difendere il titolo italiano che abbiamo acquisito e non è detto andare magari a vedere nuove federazioni natural che sono nate circa due anni fa e in cui non abbiamo ancora gareggiato. Perciò provare a espandere la nostra competizione a livello italiano nelle varie federazioni, indubbiamente sì.